Il boss mafioso Matteo Messina Denaro rimane nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, anche se le sue condizioni sono migliorate. Il boss è ricoverato dall'8 agosto scorso per un peggioramento delle sue condizioni e per essere sottoposto ad intervento chirurgico a causa di una occlusione intestinale. L'intervento poi è perfettamente riuscito. Matteo Messina Denaro è affetto da un tumore al colon in stadio avanzato. Attualmente le sue condizioni non sarebbero compatibili con il carcere. Per i medici il 61enne ex superlatitante rinchiuso dal 17 gennaio scorso in regime di 41 bis nel carcere di Preturo necessita ancora di ricovero ospedaliero ma nei prossimi giorni potrebbe essere trasferito nel reparto per detenuti dello stesso ospedale San Salvatore oppure nell'infermeria del carcere.